E perché... M'affanculo! Bene amici, eccoci qui di nuovo insieme, prima puntata del nuovo anno del trattore del mese. Hanno nuovo trattore nuovo, vero Gianmà? Beh Felice, si dice hanno una nuova vita nuova. Di solito. Di solito. Però in questo caso, dai, diciamo trattore. Bene amici, oggi un marchio speciale, con una bella storia dietro. Era parecchio che aspettavo di parlare. Della Mercedes? Ma come? Che grande marchio, figlio, la Mercedes. Quello era bello, eh? Come la Mercedes? Un gran marchio tedesco, sì. Ma come Gianmà, oggi parliamo dell'OM. Eh, ma ho capito, ma c'è lo stemma della Mercedes. Questo sarà il primo trattore in collaborazione con la Mercedes, no? Ma secondo me il precedente proprietario si è solamente divertito. Comunque sicuramente sarebbe stato un bel trattore, con un gran motore, sicuramente. Ah, voglia, sicuro. Oggi parliamo dell'OM 513R, macchina del 1961, ed è doveroso parlare anche un po' del marchio M, che giustamente viene associato alla Fiat Trattori, ma che ha tanto altro da raccontare. Infatti le officine meccaniche furono un'azienda italiana con radici antiche, la cui fondazione risale addirittura già a Marco al 1899. Fu impegnata nella costruzione di automobili, autocarri, mezzi militari, mezzi ferroviari e macchine agricole. Nella produzione di tutti questi veicoli ebbe grandi successi e davvero contribuì in modo importante alla storia della meccanizzazione italiana. La Fiat Trattori ebbe un grosso colpo di fortuna, entrò in possesso del 50% delle azioni OM in seguito alla Grande Depressione. La Grande Depressione già marca del 19... 93... No, 29. 29, spero che la tua vecchia maestra dell'elementare non veda questo video. Inizialmente la sfruttò per i motori e per gli impianti produttivi. I primi trattori agricoli presentati con marchio M videro infatti la luce solo nel 1952. Il più famoso, il primo M, Gianmarco, il mitico... Il 3540! Il 3540 che ebbe molto successo con il suo motore diesel a 3.770 cm3. Il nostro 513R nascerà circa 10 anni dopo e con i suoi 64 cavalli si dimostrerà un successo molto apprezzato. La OM scompare definitivamente dal mercato delle macchine agricole con l'ultimo modello che fu l'850. Ora, Gianmarco, parliamo per bene di questo 513 che ancora oggi, come veri, si trova qui nel parco usato e che sicuramente troverà un altro proprietario che lo farà lavorare di nuovo. Sicuramente. Questo modello deriva principalmente dal 512R che uscì nel 1959 ma che fu prodotto per appena due anni. La linea estetica risultava infatti vecchia a fronte però di una meccanica validissima. La OM fece uscire quindi il 513R con una linea inedita e fu subito successo per prestazioni e robustezza. A testimonianza di questo lo ritroveremo nel 1966 pure nella nuovissima serie diamante della Fiat con il nome 615. Segno che questo trattore fu apprezzato per tutti gli anni 60. Gianmarco, a prima vista come ti sembra questo mezzo? Oh, Fili, mi sembra una macchina robusta, certo. Però ho una domanda, Fili, ma questo qui com'è, telaio portante, motore portante? Come? Vieni giù che te lo spiego. Vai. Allora, quasi già, ma è un semitelaio perimetrale che supporta il motore e che conferisce grande robustezza in effetti al mezzo. A proposito del motore, è un grande classico della produzione OM, 4 cilindri in linea, albero motore su 5 supporti, basamento e testa in ghisa, con coperchio valvolo in alluminio, pompa dell'acqua centrifuga abbinata alla ventola radiatore e azionata con cinghia, filtro aria a bagno d'olio e prefiltro centrifugo a ciclone. Avviamento, come hai visto, con motorino elettrico. Facci sentire sto motore, Gianmarco. Vai. La trasmissione è composta con la frizione B-disco a doppio stadio con pedale unico a disinnesto progressivo, cambio di velocità a tre marce avanti e una retromarcia più riduttore incorporato. A richiesta era disponibile il dispositivo automatico ed emergenza Automatic, armabile a mano e azionato attraverso il pedale. Che cosa è questo Automatic, Gianmarco? Forse molti di voi lo conoscono e altri no. È una delle prime automazioni meccaniche proposte da Fiat OM. Il 513R, infatti, veniva venduto come dotato di mezza marcia inestabile sottocarico o, a livello commerciale, chiamato Automatic. Ma in realtà più tecnicamente era definibile riduttore automatico ed emergenza. Ora lo spieghiamo un attimo. Il dispositivo sfrutta il principio della ruota libera e usa l'albero della presa di forza come seconda presa di moto per azionare il cambio. Allora, Gianmarco, ti spiego un attimo meglio. Perché questa macchina, a quanto pare, tu stai leggendo dalla targhetta, è dotata di dispositivo Automatic. Dico bene? Sì. Era dotata più che altro. Secondo me si agganciava a un pezzo che era forse anche sulla leva. Capito? Che ora è segata, ripeto. Però forse si agganciava. Questo dente permetteva di agganciarlo perfettamente a metà. E Filippi, dovrebbe stare a st'altezza perché comunque questo qui a fine corsa arriva qua. Sì. E quindi doveva essere un qualcosa che era più o meno da queste zone che permetteva di Comunque magari c'è qualcuno che ci guarda da casa che ci può dare una mano che magari ha questo modello di macchina, ha questo dispositivo Automatic e ci può dire se effettivamente ha questa leva. Però tu sulla targhetta hai letto. Eh sì, ma qui sulla targhetta, vabbè a parte queste qua sono le, diciamo, è il disegnino che ti spiega come funziona il cambio e questo qui è la leva per metterla ridotta a folle o la marcia normale. Però questo qui è proprio quello che dicevi tu, vedi? Riduttore d'emergenza, vabbè non ti leggo un po' sporco, e fa vedere questa leva lunghissima che va innestato nella posizione 2, da posizione 1 di disinnesto a posizione 2 di innesto. Che è il discorso di armarla. Oh, e qualche parola non si legge, ma c'è scritto che dopo essere portata nella posizione 2, la coppia motrice aumenta del 50% e la velocità si riduce. E questo aiutava negli impegni gravosi di cui ti parlavo, capito? Oh, aumenta la coppia motrice e di conseguenza è normale che la macchina tira più. Perché adesso mi sa che la leva vanno levata nel tutto. Esatto, la leva è stata segata. Ti spiego perché questo gesto che può sembrare un po' particolare. Con l'automatic inserito, per effetto della ruota libera di cui ti parlavo, non si poteva soffrire del freno motore. E nelle discese il trattore si comportava potenzialmente come una bicicletta, raggiungendo velocità pericolose. Da questo il motivo, forse perché questo proprietario, il presente proprietario e molti altri hanno addirittura segato la leva dell'automatic. Apprezziamo la volontà dell'OM Fiat di automatizzare alcuni procedimenti, cosa non scontata per un mezzo di inizio anni Sessanta. Cosa notevole per una macchina di quest'epoca, Gianmar, è la strumentazione del cruscotto. Facci caso, quadro a corpo unico, retroilluminato di ottima fattura e da notare, Gianmarco, lusso dei lussi per allora, lo strumento elettrico di indicatore del livello del serbatoio gasolio. Cioè, pensa che c'era uno strumento elettrico all'interno del serbatoio gasolio, questa macchina che indicava il livello inesistente su moltissimi concorrenti e persino sul successivo 615 che uscirà cinque anni dopo, che come ti dicevo è l'evoluzione di questo modello. E non c'era. No, quindi questo era un optional per questa macchina, forse è deciso dalla OM di metterlo, ma era veramente straordinario come optional per i tempi. Bene, è sempre un piacere parlare e farsi un giro su un trattore d'epoca e questo chissà quante ore di lavoro ha da raccontare. Gianmarco, raggiungimi così facciamo i saluti agli amici a casa. Ho parlato con qualcuno che l'ha utilizzato per tanti anni e me l'ha descritto come una macchina efficiente e robusta, che ha dato molto a tante aziende agricole. Un motore generoso e una presa di forza ancora più generosa. Ma vogliamo fare come per il 180-55 che gli cambiamo logo e ci mettiamo quello della OM? Che vogliamo fare, Gianmarco? No, no, Filipe, che così mandiere qualche cavallo in più. Eh, giusto, il simbolo Mercedes. Benissimo. Ti è piaciuta la storia di questa macchina, Gianmarco? Bella, bellissima. Anche della OM la conoscevi tutte le cose che ha fatto dal 1899. Vabbè, è normale che le storie che racconti tu, non è che le sappiamo perfettamente. Per questo è un piacere raccontarle, anche io me le studio e devo dire sempre tante cose interessanti. Io, Gianmarco, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali e ci diamo appuntamento al prossimo mese con un altro pauloso trattore. Certo. Ciao amici. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.